Musica Vallo di Diano, Piana del Sele, maxi operazione antidroga, 8 arresti. Padula, Michele Strianese, candidato presidente della provincia nel Vallo di Diano per presentare i suoi progetti. Problema alcol tra i giovani, interessato anche il Vallo di Diano. Teggiano, stamane il convegno fare sport, opportunità per un migliore stile di vita. Monte San Giacomo, con grotta Briganti e Cacio, il 28 ottobre Terra Puglia. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Partiamo subito con la cronaca. Questa notte, maxi operazione antidroga tra il Vallo di Diano e la Piana del Sele. I carabinieri di Sala Consilina, unitamente al personale nucleocinofili carabinieri di Sarno, il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, hanno arrestato otto persone, parte di un sodalizio criminale, attivo tra le due aree, dedito al rifornimento e allo spaccio, di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. Coffee Break è il nome della maxi operazione antidroga portata avanti dalla compagnia carabinieri di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva che dal novembre 2017 all'aprile 2018 ha portato all'individuazione di una rete di spaccio che da Santa Cecilia di Eboli portava al Vallo di Diano. Otto le persone raggiunte da misura cautelare in carcere di cui una colta in fragranza di reato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. 1,5 kg di sostanza stupefacente di vario tipo è stata posta sotto sequestro che all'esito delle analisi avrebbe prodotto 6.200 dosi da immettere sul mercato. Ad illustrare i dettagli dell'operazione, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro, il dottor Francesco Greco, il colonnello Antonino Neosi, comandante provinciale dei carabinieri e il capitano Davide Acquaviva. L'operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Sala Consigna guidati dal tenente Gaetano Ragano che a seguito accertamenti e con approfondite indagini hanno potuto scoprire come la sede operativa per gli spacciatori per i quali sembrerebbe non configurarsi il reato di associazione era a Santa Cecilia di Eboli da dove si rifornivano i malviventi. Pare inoltre che nel Vallo di Diano fossero presenti anche ulteriori depositi con diversi canali di spaccio. Delle otto persone arrestate, tre sono italiani del Vallo di Diano di cui un 45enne ed una 44enne di origini rumene di Teggiano ed un trentenne di Atena Lucana. Arrestati inoltre anche cinque persone di origini straniere di cui due residenti a Teggiano e altri tre a Eboli. Secondo le indagini dei carabinieri, la droga veniva poi venduta nelle piazze di Sala Consigna, Teggiano, Buonabitacolo e Atena Lucana. L'operazione è stata denominata Coffee Break, come spiegato dal capitano Acquaviva, per le modalità utilizzate dagli arrestati ai fini di accordarsi per incontri e scambi della sostanza, parlando appunto di incontrarsi per un caffè. Un dato preoccupante che evidenzia come l'uso della droga sia in notevole aumento in particolare tra i giovani. Dall'operazione è infatti emerso che gli acquirenti, tutti del Vallo di Diano, avessero un'età compresa tra i 21 e i 40 anni. E dopo il telegiornale trasmetteremo la conferenza stampa integrale indetta questa mattina presso la Procura della Repubblica di Lago Negro. Ed ora andiamo avanti e restiamo sulla cronaca. La Guardia di Finanza di Laurì ha condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore della costruzione e della ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali. L'operazione ha consentito di far emergere in materia imponibile sottratta tassazione per circa 252 mila euro. Un'IVA dovuta per complessivi 25 mila euro, nonché un'IRAP dovuta per complessivi 6 mila euro. Le attività ispettive hanno interessato le annualità dal 2014 al 2017 ed hanno permesso di appurare le omesse dichiarazioni per l'anno 2015 quando la società ha effettuato dei lavori di ristrutturazione di un'attività commerciale operante nel settore della ristorazione. Ed ora cambiamo argomento. Nella giornata di ieri Michele Estrianese, candidato alla presidenza della provincia di Salerno, è stato in visita nel Vallo di Liano per incontrare consiglieri comunali e sindaci ed esporre il suo programma. Ad ospitarlo il sindaco di Padula, Paolo Imparato, che ha organizzato l'incontro presso la sala convegni della Certosa di San Lorenzo. Il candidato alla presidenza della provincia di Salerno per il PD Michele Estrianese è in visita nel Vallo di Liano per incontrare amministratori e sindaci del territorio. Ad accogliere il sindaco di San Valentino Torio, il primo cittadino di Padula, Paolo Imparato, che ha fatto gli onori di casa presentando a Estrianese gli amministratori del territorio, giunti per conoscere le idee e i progetti del candidato alla presidenza della provincia in vista delle prossime elezioni. Il prossimo 31 ottobre urne aperte in cui i consiglieri comunali e sindaci dei territori dovranno recarsi per scegliere il nuovo presidente della provincia, che dovrà succedere a Giuseppe Canfora, tra i candidati Michele Estrianese per il centro-sinistra e Roberto Monaco, sindaco di Campagna per il centro-destra. Edilizia scolastica e viabilità sono le priorità per Estrianese, su cui è necessario intervenire e a cui si aggiunge anche la necessità di conoscere bene in una provincia che il candidato della presidenza riconosce bella e ricca dal punto di vista culturale, partendo proprio dalla maestosità della Certosa di San Lorenzo a Padula, che ha ospitato ieri l'incontro. Vogliamo dare più territorialità alla politica, alla pubblica amministrazione. La nostra è una provincia enorme come estensione, ma bellissima come paesaggio, come bellezze architettoniche e siamo qui alla Certosa di Padula, che è uno dei monumenti più importanti dal punto di vista architettonico. Per cui è una provincia da visitare, ma non solo adesso, che siamo anche in campagna elettorale, ma sicuramente anche e soprattutto dopo le elezioni, se dovessi essere eletto presidente della provincia. Anche perché i problemi sono disseminati su tutto il territorio, un territorio vastissimo, anche molto difficile dal punto di vista idrogeologico, ma anche bello da scoprire. Quindi girerò parecchio perché io sono un ingegnere e mi fa piacere conoscere i luoghi, i problemi sulle strade, sulle scuole e quindi fondamentalmente noi vogliamo essere presenti su tutti questi territori, lo dimostra anche la mia presenza qui stasera. Io sono convinto che a pari merito ci sono sia la viabilità che l'edilizia scolastica, perché sono due argomenti che riguardano la sicurezza, la sicurezza dei cittadini, sono le due cose principali, la sicurezza dei bambini nelle scuole, ma anche come dire una accessibilità migliore delle scuole stesse per tanti progetti che si possono fare anche al di là di quello che è l'orario scolastico. Ma poi le strade, la sicurezza delle strade è un fatto importante, non solo sicurezza ma anche possibilità di circolare con maggiore semplicità, con maggiore agilità e dunque riuscire ad avere un'economia anche più forte sulla nostra provincia. Recenti studi hanno evidenziato il dilagare del fenomeno dell'alcol nel meridione. Interessato anche il Vallo di Viano con Sant'Arsenio come centro di maggiore affluenza. Se non è un'allarme poco ci manca, parliamo del dilagare nel meridione del fenomeno dell'alcolismo tra i giovani. Non viene risparmiato il Salernitano con i dati poco lusinghieri emersi dall'indagine di Euris Pess ed Empam. Nella nostra provincia, infatti, nell'ultimo anno, le persone con problemi d'alcolismo sono state poco più di 900. Le zone maggiormente colpite dal fenomeno sono la Piana del Sele e il Cilento. Per il nostro Vallo di Viano un dato poco lusinghiero, con Sant'Arsenio che si afferma come centro di maggiore affluenza. Intendiamoci, parliamo di uno studio riguardante i giovani di età compresa, tra gli 11 e i 17 anni. Non c'è da stupirsi tanto per il problema di per sé, che ormai da anni si estende a macchia d'olio su tutto il paese, ma per i numeri in costante aumento tra gli adolescenti. Si inizia per gioco, per sentirsi adulti e conoscere un nuovo mondo, entrando poi, inconsapevolmente, in un vortice da cui è difficile uscire da soli. Qualche numero può rendere l'idea. Nel triennio 2012-2015, la percentuale di consumatori di alcol è risultata del 45%, il consumo fuori pasto del 4% e il consumo abituale elevato del 3%. Sono per lo più gli uomini rispetto alle donne a rifugiarsi nell'alcol. Ma gli esperti sono convinti che queste cifre siano in netto aumento. Bere vino, birro superalcolici è ormai abitudine per i giovani e beve maggiormente, che ha un basso livello di istruzione e nessuna difficoltà economica. Alla luce di questi studi, emerge come nel Salernitano, diminuiscono i consumatori giornalieri, mentre cresce la quota dei consumatori occasionali. Problema nel problema è il binge drinking, assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo più o meno breve. Il consumo binge, in linea con i dati generali, è più frequente tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni e soprattutto tra le persone con un basso livello di istruzione. E la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria relativa al bando Scuola di Comunità, attraverso il quale l'amministrazione regionale sostiene un capillare e una capillare azione di contrasto alla dispersione scolastica. Vediamo. Con il progetto Scuola di Comunità della Regione Campania, parte un grande e capillare programma per contrastare la dispersione scolastica nelle aree a rischio. Si tratta di un grande investimento per i giovani e per la legalità. Su oltre 180 proposte pervenute, sono in tutto 81 i progetti finanziati, 13 milioni di investimenti e oltre 300 gli istituti coinvolti, con circa 2.000 ragazzi dei quartieri a rischio, insieme alle loro famiglie, seguiti da docenti ed esperti attraverso programmi di reinserimento e formazione. Le associazioni che sono state ammesse a finanziamento opereranno insieme alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, situate nelle aree di maggiore disagio sociale ed economico, e ciò attraverso interventi di sensibilizzazione ed educazione all'importanza del percorso educativo, rivolte agli studenti e al rischio e alle loro famiglie, nonché attraverso attività di contesto sul territorio per informare e promuovere lo spirito civico e la cultura della legalità. Nei prossimi giorni si conta di estendere il programma anche ad altri 100 istituti, collocati in altrettante aree a rischio. Interveniamo nei quartieri della paura per togliere i ragazzi dalla strada, lavoriamo per garantire la sicurezza e dare una speranza a tante famiglie in difficoltà, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ed ora torniamo nel Vallo di Diano. Aspettavamo da mesi di darvi questa notizia e oggi, finalmente, il fatidico giorno è arrivato. Siamo onorati e soddisfatti di comunicarvi che la regione Campania, che annuncia il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, ha concesso il rifinanziamento del costruendoplesso scolastico. I nostri bambini, i nostri ragazzi potranno vivere l'esperienza scolastica del nuovo plesso che completeremo nei mesi a venire. Siamo veramente felici e orgogliosi di darvi questa notizia che ci ha tenuto in tensione durante i mesi scorsi. È bene considerare il lavoro che è stato svolto da questa amministrazione per arrivare a questo risultato. Ed è anche opportuno chiarire le fasi che adesso ci attendono e lo faremo prossimamente durante un incontro pubblico che renderemo noto a breve. E con delibera di giunta, l'amministrazione comunale di San Pietro Altanagro ha deciso di destinare il 5x1000 a sostegno delle fasce più deboli del comune. 1.119,06 euro è l'importo del 5x1000 dell'IRPEF anno di imposto a 2015 che l'amministrazione comunale di San Pietro Altanagro ha deciso di destinare a favore delle famiglie con disabili e minori studenti in nuclei familiari a basso reddito residenti nel comune. La decisione è arrivata con delibera di giunta dello scorso 19 ottobre che stabilisce anche che l'individuazione dei beneficiari e l'erogazione dei successivi contributi verrà gestito mediante un piano di intervento definito di concreto con l'assistente sociale assegnata al comune dal piano di zona ambito S4 nell'ottica della trasparenza e della parità di trattamento previa pubblicazione di un avviso pubblico rivolte a famiglie con disabili e soggetti in difficoltà economiche residenti nel solo comune di San Pietro Altanagro. La scelta dell'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Quaranta nasce dal progressivo peggioramento delle condizioni economiche e sociali della comunità e dunque per dare un aiuto concreto alle famiglie del territorio. Andiamo avanti. Sui temi dell'autoimprenditorialità e lavoro autonomo si terrà venerdì un incontro organizzato dall'Ufficio Europa Teggiano presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano Scalo. Educare all'autoimprenditorialità e quindi al lavoro autonomo è l'obiettivo dell'incontro che si terrà presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano Scalo venerdì mattina alle ore 10.30. L'iniziativa rientra nel programma di animazione territoriale che l'Ufficio Europa Teggiano sta portando avanti per sostenere il progetto dell'Unione Europea sul tema attraverso la divulgazione tra i giovani studenti di programmi e progetti tra i quali Noe About Business, Scuola Creativa e Innovazione, ILO, Benessere Giovani. Venerdì presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano saranno presentate ai docenti e agli alunni tutte le nuove opportunità che potrebbero consentire loro di dare valore e concretezza alle proprie idee imprenditoriali anche nella prospettiva più ampia di creare lavoro in aree interne come questa con un occhio di riguardo ai settori quali turismo e ambiente. La presentazione dell'evento sarà curata dalla dirigente scolastica locale Antonietta Cantillo. Seguiranno i saluti istituzionali di Michelina De Paolo, consigliera delegata al turismo e alle politiche sociali del Comune di Montesano. interverranno poi Cono Morello, consigliere comunale di Teggiano, nonché ideatore dell'Ufficio Europa e Vincenzo Quagliano, amministratore della Quest & Partners di Salerno ed esperto ideatore di progetti di sviluppo locale. Nell'occasione venerdì sarà illustrato il programma Resto al Sud che vede l'Ufficio Europa Teggiano ente accreditato da Invitalia per l'accesso ai fondi e sarà presentato anche il progetto Tanagro Opportunità Giovane che interessa i comprensori del Vallo di Diano e del Tanagro. Ed ora ci spostiamo a Sapri dove il primo cittadino Antonio Gentile è aderito alla raccolta di firme per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione della cittadinanza in tutte le scuole. La proposta di legge promossa dal sindaco di Firenze Dario Nardella è stata condivisa ad Anci ed ha ottenuto l'adesione dei sindaci di tantissime città. Secondo la proposta la educazione della cittadinanza dovrebbe partire dalla scuola dell'infanzia sino ad arrivare alle scuole superiori e verterebbe tra l'altro sull'educazione ambientale, sulla lotta allo spreco di risorse, all'educazione, alla legalità, allo studio della Costituzione, delle istituzioni dello Stato e dell'Unione Europea dagli elementi fondamentali del diritto. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie. Restate con noi a tra poco. Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Questa mattina presso il Pomponio Leto di Teggiano si è svolta un'importante iniziativa grazie alla collaborazione della sezione arbitri di Sala Consilina e si è tenuto l'incontro dal titolo Fare sport, opportunità per un migliore stile di vita. Giuseppe Opromolla. Fare sport, opportunità per un migliore stile di vita. Il titolo dell'incontro finalizzato alla divulgazione e alla sensibilizzazione della pratica sportiva che si è svolto questa mattina presso l'Istituto Scolastico Pomponio Leto di Teggiano. Un incontro a cui voluto dall'associazione arbitri di Sala Consilina presieduta dal presidente Gian Piero Caffro e rappresentata quest'oggi anche dall'arbitro Ivan Robilotta con un'importante carriera in corso tra serie A e serie B e che è stato accolto favorevolmente dal dirigente scolastico dell'Istituto Pomponio Leto di Teggiano Rocco Colombo. Ma ascoltiamo le interviste realizzate questa mattina in occasione appunto dell'incontro al Pomponio Leto di Teggiano. Oggi si parla di sport ma oggi per la prima volta questi studenti entrano in contatto con un personaggio del mondo dello sport che è importantissimo, che sta facendo molto bene un giovane Ivan Robilotta che è un arbitro che ha già avuto la possibilità di esordire in serie A con la Sampdoria è un arbitro che in pratica settimanalmente sui campi di serie A e di serie B è presente e allora la passione per l'arbitraggio, lo sport la possibilità di poter trasformare la propria esistenza migliorandone lo stile di vita insomma sono dei segnali che nella scuola devono essere dati e io voglio ringraziare tutti i personaggi, tutte le personalità che oggi sono qui per dare questi messaggi davvero di vita sana ai nostri studenti. L'idea è nata diciamo durante una sera in un consiglio direttivo che noi facciamo abitualmente almeno una volta al mese è nata l'idea di avviare questo tipo di iniziativa nelle scuole servendoci anche della collaborazione di altre associazioni sportive infatti parleremo di diverse discipline oggi parleremo di nuoto, di podistica, di ciclismo e di arbitraggio ci renderemo conto alla fine che l'arbitraggio le comprende un po' tutte fare l'arbitro non è soltanto stare sui campi come dico sempre io ma è anche fare attività nel sociale e fare soprattutto sport qualsiasi tipo di sport diciamo a noi ci gratifica e ci caratterizza come gruppo di attreti e come categoria di attreti. Nel tour in Toscana di Pietro Cusati e Michele D'Alessio ospiti dell'associazione Valdianesi in Toscana sono stati in visita presso la società Navicelli di Pisa dove tra i massimi dirigenti c'è l'ingegner Gaetano Petrizzo di Sassano una società interamente a capitale pubblico costituita al fine di gestire il canale dei Navicelli e le aree demaniali limitrofe provvede al mantenimento dell'efficienza e dell'utilizzo del canale in particolare per quanto riguarda gli interventi di dragaggio e l'apertura dei punti per il passaggio delle imbarcazioni ascoltiamo le interviste realizzate Lo sviluppo della cantieristica la stiamo vivendo giorno dopo giorno dopo un periodo purtroppo di crisi abbiamo notato, stiamo toccando con mano come effettivamente stia risorgendo Ho trovato una società che è in ampliamento e grazie anche a quelle che saranno le prossime iniziative delle quali saremo oggetto anche a livello normativo siamo sicuramente davanti ad una grossa sfida Abbiamo un ufficio tecnico che è egregiamente e sapientemente condotto da un collaboratore l'ingegner Gaetano Petrizzo che io definisco il mio braccio destro Grazie a lui, grazie anche agli stimoli che quotidianamente dà partecipiamo a riunioni con Comune e con Regione perché la novità importante è che noi al primo gennaio 2019 ci vedremo ampliare le nostre competenze cioè non saremo solamente più competenti per norma sul canale avremo la competenza della navigabilità dell'Arno che è qualcosa di un attimino più articolato e complesso e di una parte di canale artificiale che è stato realizzato tra l'Arno e il canale dei navicelli quindi avremo un ampliamento delle nostre competenze e di conseguenza avremo la possibilità di realizzare quello che è un sogno da Pisa a Pisa dal 74 cioè quello di un anello turistico che comprenda battelli che possono passare attraverso questi corsi d'acqua che possono collegare la città con parchi naturali insomma qualcosa di veramente ambizioso Io sono la Navicelli S.P.A. da circa 13-14 anni che gestisco la parte tecnica del canale dei navicelli il canale dei navicelli è un canale che collega l'Arno con il porto di Livorno dove ci sono 21 cantieri lungo tutta l'asta fluviale dislocati lungo tutta l'asta fluviale e viene praticamente serve praticamente serviva come collegamento è stato costruito nel 1560 da Cosimo dei Medici e serviva come collegamento per portare le derrate prodotte in tutto l'Interland fiorentino portarle attraverso l'Arno nel canale dei navicelli e quindi collegarle con il porto di Livorno attualmente come presidente è l'ingegner Salvatore Pisano e quindi ora è lui come presidente e io curo la parte tecnica Domenica prossima 28 ottobre Grotta Briganti e Cacio porterà la scoperta del terreno tipico dei luoghi a piedi del Cervati chiamato Terra Puglia che darà il nome all'evento tutti i protagonisti della giornata in montagna Terra Puglia è il titolo del prossimo evento organizzato da Grotta Briganti e Cacio in località Vallicelli a Monte San Giacomo si terrà domenica prossima 28 ottobre questa volta si andrà alla scoperta del terreno tipico di quei luoghi appunto Terra Puglia con caratteristiche tali da rendere i suoi prodotti unici e irripetibili si tratta di un'altra eccellenza del Monte Cervati a cui l'associazione presieduta da Carmine Elisa vuole rendere omaggio con un'intera giornata dedicata tra storia, scienze, escursioni e degustazioni domenica si partirà con una passeggiata accompagnati dal racconto delle esperienze di chi quei terreni ai piedi del Cervati li ha lavorati e continua a farlo in un secondo momento presso la casa del Peraino ci sarà un dibattito moderato dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti durante il quale il gastroenterologo Riccardo Marmo e la biologa nutrizionista Roberta Vigna illustreranno gli aspetti clinici e nutrizionali legati al consumo delle colture di montagna i responsabili regionali di Slow Food si concentreranno invece sul valore storico culturale e sociale del recupero delle piccole coltivazioni di montagna mentre il presidente della comunità montana Raffaele Accetta e il presidente del GAL Attilio Romano si cimenteranno nella preparazione di piatti tradizionali il pranzo sarà preparato dalla chef Giovanna Voria ambasciatrice della dieta mediterranea che accompagnata dai cuochi rurali della casa del Peraino esalterà i sapori dei prodotti di montagna con ricette tradizionali e nuovi esperimenti nel pomeriggio dopo una piacevole escursione tra bosche e grotte la giornata in montagna si concluderà con un digestivo nei pressi dell'arco naturale del Monte Cervati e con questo servizio termina qui questa edizione del nostro telegiornale vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata di giornata di giornata